Oh cavolo, mi ha chiuso qui! Mi aiuto, aiuto, aiuto! Puoi bannare da Arcus che mi ha ruato? No! Non possiamo bannare da Arcus, basta! Ah, ok, eccoci qua! Ciao a tutti, che vi pare, benvenuti a questo nuovo video su Among Us con tanti iscritti vari e belli e simpatici. Più o meno, ma sì dai, diciamo di sì. E come sempre, prima cosa, vi ricordo che se volete partecipare vi mando i codici quando registro su Telegram. Visto che già l'ho detto nel scorso episodio, ma non avete capito tanto bene, ve lo ripeto. Ovvero che il codice ve lo mando su Telegram quando gioco e registro. Ok? Tutto qui. Bene. Ora facciamo delle tipiche quest da crewmate qui, tipo Bibede e Bobede, ok. No! No, mio peccato, cazzo! E dai, è troppo corta sta partita. Brava Chiara! Tu! Jolly t'ha visto, è Chiara! Sei tu! No, c'è l'ho... In elettrica. Tu, tu, sei tu! Certo, è forte. Ha ucciso davanti a me, in elettrica. È forte. Sì, certo. È forte tu, povero Kerofi, ma dai! Giallo! L'hanno buttato tutti te! Cazzo. No, non tutti. Il bianco e il rosso hanno buttato lui. Ah, la vendetta! Non è giusto, è tornato indietro! C'è ancora qualcuno. E beh, lui non fa niente, sta lì che si fa le sue cose. Le sue cose pinte pure. E appunto. E boom, agisce! Invece no. Dai! Perché non lo uccide? Forse doveva aspettare del tempo, po'. Oh, dai! E a un certo punto, bam! Uccide il povero Wither. Ciao, Wizard! Andiamo insieme a vagare per lo spazio. Maggie, non sei manco... Che cavolo fai, Matteo? Matteo! Cosa conviene? Maggie, ma cosa è colpa del cadavere perché era dietro? Lei è andata a fissare le luci che ho spento e poi è uscita. Ma perché insultano il povero Matteo così? I problemi mentali hai. E intanto l'impostore, cioè Anto, che è il mitico Anto292, credo, eh? Non lo so. Il mitico Anto292. Comunque non reagisce, non dice niente. Voto e basta. Se non è lei, votiamo il verde. Perdono tutti, sì! Hanno votato tutti i Maggie! No, povero Maggie. Ah, tranne Maggie che ha votato a gente. Sono un impostore perfetto anche da morto. E si ritega una vicenda perché li hai chiusi lì. Eh sì, è questo che si deve fare, eh! Fermi tutti. L'importante, l'importante! Sì, l'importante è bravo, sono io bravo. Perché loro fanno schifo. Verde, ascoltami. Bastano la chilla e morriamo. No, sono voti, no! Altrimenti ha votato un schifo, quindi nessuno è fuori. E vabbè, se Anto ne uscite un paio. Sì, però possono morire anche di ossigeno, di evicenda, questo qui. Fammi una votata giro. Che scemi, ma come fanno a non accorgersi? Raga, ha scritto il suo primo messaggio dopo 30 anni. Io ho finito le tasche da un po'. E' un genio! E tutti quanti ci credono benissimo. Bravo, Anto! Ti regalo una cosa se viene sul serio. Hanno votato Jolly! No! L'hanno perso, quindi! Eh, mi sa di sì. Deve uccidendo ancora uno. Si è chiuso dentro? L'hai chiuso te? No. Si è chiuso da solo. Ma dove va? Perché non fa niente? Non lo so. Dai! Oh, l'ha ucciso, finalmente! E l'ha riportato lui stesso. Sì, magari dice... Eh, ha le mani... Ehi, Bianco! Bravissimo! E' l'urrino! E' l'urrino! Ma perché censura così a caso? Azzo! E vabbè! Io l'ho achilato di fronte a me. Bianco, sei te? Tan, tan... Chiudatevi! Ma che cosa? Bianco! Hanno votato tutti? No, manca Anto! Anto, muoviti a votare, dai! Hanno votato ormai! Ognuno ha votato qualcun altro, guarda! E ha vinto adesso, basta che uccide uno e fine. Sì, ma non è... È stupido, no? Gli uccide! No, sono andati altrove. Eccolo, eccolo, eccolo! Dai! Su! E' lì! Sta arrivando! Dai! Ammassalo! Dai! Dai, Anto! Dai, Anto! Sì! Ci ha messo io, ed ero uno dei criometri, ma vabbè. Ho vinto! È durata così tanto sta partita. Ho fatto tutto io! Ed ecco che inizia un'altra normale. Ha detto l'altro left. Perfetto. Ma perché crashano tutti così? Che... Probabilmente... Che problemi di connessione c'hanno, Bo? Eh, sono il codo da telefono che dà problemi. Bo! Abbiamo messo pure Europa stavolta. Vabbè. Oh, di già! Oh no, esplode il reattore! Presto! Perché non mi cammino, ok? Di qua! No, il reattore è di qua! Corri, 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 corri. Ah, un cadavere! Corri, oh no! Tan tan! Chi è defunto? Maggie! Poverà Maggie, che la schietta sempre subito. Bo! Io stavo andando al reattore. Schiaccia con meno potenza i tasti che si sente da 30 km. Io non sono stavolta, ragagagaga. Agagagaga. Agagagagaga. Io ho il reactor aspettando qualcuno, sì, sì. Dunque, io ero con l'agente e il reattore. Black Skull non me la racconta giusta. Io non sono OU. Ok. Eh, non fanno niente. Può essere. Che mi osservi? No, Matteo mi osserva mai. Matteo mi segue, aiuta. Oh cavolo, mi ha chiuso qui! Mi aiuto, aiuto, aiuto! Eh, Matteo, Matteo, mi ha chiuso. Mi ha chiuso, mi ha chiuso. Dove? Qui, non lo so. Oh, meno male, è Matteo, è Matteo sicuramente. È molto male. Matteo! Subito! Mi ha intrappolato. Subito, Matteo, dov'è? Brutto in fingardo! Mamma mia, il terrore! Matteo! Mamma mia, Matteo, il terrore! Non sono io. Sì, sì. È lui. Anche io ero chiuso, eravamo tutti chiusi. Dai! Il terrore, Matteo! Idem! Beh, quindi... Io ero chiuso con Matteo dalle scatole. Lo dirà sicuramente, Svito. Cosa sto scrivendo? Oddio, scatole. Ok. Perché non posso scrivere scatole? Eh, bello. Perché sei scatole. Ma che vuol dire? Tanto lo sappiamo tutti che sei te. Guarda, tutti proprio! Tanne Matteo stesso. Andiamo. Come no? E come è possibile? No, adesso mi odieranno. No, ma... Ci sono rimasto male. Adesso mi odiano. Chi era? Non lo sappiamo, vediamo. Niente. Ora votano te, scontiamo. No! 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 Addio! Allora... Sappiate... Che... Sbagliate. Tutto in maiuscola. Sbagliate. Che vota lui? C'è l'ho... Addio! E che faccio io? Chi stai votando? Chi voti? Chi voti? Dimelo! Tanto! Anch'io. Vo... Io ero in trappola... Però vedi che sono aggetti per scusa Si sta migliorando tutto. Con... Quel... Tizio rosso. Secondo me no. E... Pensavo... Fosse lui. Io penso che uno sia... Oddio che spaventa! Ma... Anto... È sospetto. Non so perché. Ice Wizard! Si vota! Ok. Quindi? No. Eh, flip. Black School ha votato un Ice Wizard. Eh, secondo me finisce malissimo. Secondo me Ice Wizard. Non sono certo. Scappiamo, via. Dobbiamo swippare lì. E... L'ossigeno... Ora... Ho paurissimo. Clicchete. E clicchete. E clochete. Voilà. Black School, ora mi ammazza. Smettiamo. L'ho detto. Vieni a prendere il mio forno. No! L'avevo detto che erano due. L'avevo detto. Quindi ragazzi direi che per oggi è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Come già detto dovete entrare su Telegram per partecipare. Se ne faremo altre perché chi può dirlo. Quindi ciao a tutti. Geolta è un po' fenomeno. Come già truppato. Grazie a tutti.